Tre giganti del nord, nonostante la carenza di strutture, grande prova per l'essere di ginnastica ovidiana, le nazionali di ginnastica artistica, svoltesi a Cesenatico dal 27 al 29 maggio scorso, e medaglia d'argento per la Junior Alice del Priore, nella specialità del mini trampolino con un salto teso al limite della perfezione. Un corpo libero da brividi vale un altro secondo posto per Marta Giuliani, categoria allieve B, sempre per la gara di specialità. Melissa Popa, per la categoria esordienti, conquista a pari merito il terzo gradino del podio, sempre per la gara delle squadre Junior B, Bonaventura Flavia, Marinilli Claudia, Lombardi Chiara, Rizio Nicole, viene premiata al nono posto tra le prime dieci d'Italia. Non riesce per un soffio l'impresa, per la squadra degli allieve A, Caputo Claudia ed Andrea Francesca, Petrella Angelica e Salutario Eleonora, tredicesimo punteggio su 45. Ottima prova anche per la senior Gaia Giuliani e la junior Benedetta D'Amico, rispettivamente sesto e nono punteggio al corpo libero e per Giulia Di Bacco, distintasi nell'assoluta di specialità. Bene anche per tutte le altre ginnaste, la loro prima esperienza nazionale, Alessia Di Cenzo, Aurora Di Giustinio, Noemi Verlingeri, la piccola realtà dell'associazione ginnastica ovidiana, dietro alla guida dei tecnici, Lisa Madame, Barbara Lacivita, con collaboratori Giulia Maggi, Alessandro Pulizzotto, pur nella difficoltà delle carenze delle strutture e le conseguenti pochissime ore delicate all'allenamento, è riuscito a difendersi tra i giganti del nord, comparendo sul podio insieme a società storiche e pluriblasonate, rendendo onore all'Abruzzo e alla città.